Una discarica abusiva ma di proprietà del comune. La singolare vicenda accade a Villa Basilica dove i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro un'area adiacente a una vecchia cartiera dismessa. Da sotto il fogliame compaiono le emergenze del grosso cumulo di rifiuti che si trova sotto l'ex cartiera e che finisce per formare una sorta di argine artificiale sul sottostante torrente pesce. L'ammasso di scarti di lavorazione è avvolto da una rete allo scopo di impedire che il materiale finisca proprio nelle acque. La ex cartiera si chiamava Gober e il terreno sono stati acquistati nel 2008 dal comune di Villa con l'intenzione, spiega adesso l'amministrazione comunale, di realizzarvi un rimessaggio per attrezzature e mezzi comunali e un'isola ecologica. Sul terreno però si trovano diversi metri cubi di rifiuti, plastica e alluminio che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti derivano dall'ultimo periodo di lavoro della cartiera. Il comune a quanto sembra non aveva i soldi per la rimozione del materiale e la bonifica del terreno e allora in attesa di tempi migliori ha ingabbiato i rifiuti in una rete. In questi anni però ci sono state diverse segnalazioni sul pericolo di inquinamento ambientale derivante da questa situazione, l'ultima proprio durante una trasmissione su Noi TV nella quale la sindaco Elisa Nelli aveva assicurato che la questione era all'attenzione dell'amministrazione comunale. Nel frattempo però era già partita un'indagine e il GIP del Tribunale di Lucca ha disposto il sequestro preventivo dell'aria eseguito in questi giorni. Il comune di Villa in una nota ha ribattuto definendo inaspettato il sequestro perché proprio all'inizio di quest'anno l'amministrazione ha avviato il percorso che porterà alla bonifica dell'aria. Sempre il comune ha inoltre precisato che i rifiuti non risultano di tipo pericoloso e che nel corso di questi anni non si sarebbe mai verificata dispersione di materiale nell'ambiente.